Carissimi, rieccoci nuovamente insieme a ospiti della concessionaria Pastorino, presente sul mercato da ben 50 anni, anche di più forse, concessionaria di un nuovo marchio, il marchio Gritual. Ciao Enzo. Noi non presenti da oltre 50 anni, assolutamente no. Amici telespettatori, con grande gioia e con entusiasmo e con orgoglio vi presento il nuovo H6. Nuovo H6, amici telespettatori, SUV di casa Gritual, Gritual sinonimo di sicurezza, di trasparenza e naturalmente di un prezzo vantaggioso per poter guidare una vettura a quattro ruote motrici oppure solamente due ruote motrici. Pensate amici telespettatori, in collaborazione con la nuova fabbrica che è presente a Sofia in Bulgaria, abbiamo l'opportunità di potervi consegnare dei veicoli veramente eccezionali. Se Pastorino, che è da oltre 50 anni presente sul territorio con vendita, assistenza, distribuzione e ricambi, ha scelto come partner e di essere presente distribuendo questo marchio, un perché c'è. C'è sostanza, c'è qualità, c'è un'unione di forze. C'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. C'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Amici telespettatori, qual è questo prezzo? Pensate, il nuovo H6, trazione anteriore, a partire da 17.900 euro. Tutto quanto compreso di serie con 5 anni di garanzia e massimo di 150.000 km. Direi che l'unica cosa, visto che questo marchio è poco conosciuto, ma per chi ha avuto il piacere di provarlo, di guidarlo, è presente in Italia da oltre 20 anni. Siamo distributori delle parti di ricambio, siamo officina autorizzata e vendiamo le autovetture. 2.000 turbo diesel, 140 cavalli, climatizzatore, cerchi in lega, amici telespettatori, di tutto e di più. Se poi scegliete la versione premium, abbiamo 54 optional di serie, dall'interno in pelle al tetto apribile alla chiave Keyless. Amici telespettatori, vi aspetto qui in Corso la Mano 48 a venire a scoprire, assieme a me e a tutti i miei collaboratori, il nuovo Gritual H6. E questo è il nuovo Steed, stiamo parlando sempre del marchio Gritual, un 5 posti, 4x4, un mezzo diverso. Un doppia cabina, la possibilità di poter avere la vettura immatricolata autocarro oppure anche con la trasformazione M1, quindi con il guscio posteriore. Amici telespettatori, 2.000 turbo diesel, 143 cavalli, lo abbiamo provato, ha la sensazione di un'automobile, ha il comfort di un'automobile, ha gli optional di un'automobile. Abbiamo la possibilità di potervelo fernire anche nella versione benzina GPL. Corso la Mano 48, Pastorino, concessionario Gritual. Pastorino vi aspetta perché da oggi vi attende qui in Corso la Mano 48, naturalmente Gritual. Ma seconda, per favore. Grazie a tutti.